E me purtroppo siamo rigiunti al termine di questa nuova puntata, di questa nuova stagione Ma, ma Il tempo passa, scorre, quindi giustamente Ma torneremo la prossima settimana Esatto Come sempre, puntuali, puntuali Su questa rete che ci state vedendo? Ricordiamo che andiamo anche su altre reti regionali Ma la nostra rete principe, diciamo, possiamo dirlo? Sì, sì, siccome no In questo momento ci state vedendo Ma potete sempre vederci anche sul nostro Facebook e YouTube 24 ore su 24 La potenzialità dei social è fondamentale Quindi se perdete la puntata all'orario previsto nelle nostre televisioni Potete sempre seguirci sui social I social ci consentono appunto di essere presenti 24 ore su 24 ore Per farlo non vi basta che mettere un bel like Quindi cliccare sul pollicione E così sarete sempre aggiornati su quello che noi faremo durante la settimana E magari se c'è un evento particolare che vi è piaciuto E volete rivederlo in televisione Potete farlo non solo su in TV ma anche su Facebook Ecco, noi diciamo sempre di mettere un like Ma possono mettere anche un ha 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 Ci sono tutte quelle iconcine adesso nuove Diciamo perché noi ormai da una vita diciamo Metti il like No, no, però per seguire la pace Per seguire la pagina Inizialmente devo mettere un mi piace Un mi piace Poi dopo posso mettere una reazione come vogliono Insomma, un sorriso Che sia sempre positiva Perché poi in fondo ci sono quelle dove si piange Dove si è arrabbiati No, no No, noi cerchiamo di non far arrabbiare mai nessuno Nessuno È sovraimpressione Quindi per tutte quelle aziende che vogliono pubblicizzarsi Che vogliono far vedere la propria attività in TV Noi siamo qui pronti a venire con le nostre telecamere Direttamente nella vostra azienda E non solo se siete artisti, cantanti, ballerini E volete esibirvi e far conoscere la vostra arte Potete farlo sempre tramite quel numerino magico E soprattutto ricordiamo che noi cerchiamo nuovi volti Da inserire nella nostra emittente E nel nostro canale televisivo Quindi se volete diventare parte della nostra famiglia Ad essere il nuovo conduttore di questa trasmissione Soprattutto conduttrici Perché come abbiamo detto in apertura Il reparto maschile è abbastanza pregno Ma c'è sempre posto per una figura maschile Quindi nuovi conduttori Conduttori barra conduttrici Venite qui con un filo elettrico Noi vi mettiamo con il filo elettrico fra le mani E se nell'acqua conducete siete dei buoni conduttori Detto così non è bello Comunque va bene, candidatevi, non avete paura E magari, che ne sa Che ne sa uno, può darsi che un futuro prossimo Questo potrebbe diventare il vostro futuro lavoro Come no, come no Noi siamo qui, siamo un laboratorio televisivo A tutti gli effetti Quindi abbiamo dato la possibilità a tante persone Di sperimentarsi E di vedere se questa è la propria professione E la loro passione Bene, detto questo il tempo è pregno Perché di là ci fanno cenno Che è tempo di chiudere E allora non ci resta che salutarci E darci appuntamento la prossima settimana Ciao ciao Grazie a tutti Anni Moon Grazie a tutti 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 Grazie a tutti